Davanti agli occhi ancora le immagini della strage, corpi straziati, sangue ovunque, persone che fuggono senza nemmeno sapere dove. Sanno che però devono scappare per sfuggire alla morte. La morte che si immaterializza in un furgoncino bianco di quelli che normalmente vengono utilizzati per piccoli trasporti, per le consegne, e che zigzagando ad una velocità folle lungo la Rambla, a pochi metri da Plaza de Catalunya, travolge tutto ciò che incontra sulla sua traiettoria. Immagini che rimarranno scolpite nella mente e nel cuore di chi ha assistito all'attacco terroristico che ieri ha sconvolto Barcellona. E tra i sopravvissuti, tra gli involontari testimoni, ci sono anche alcuni turisti molisani provenienti per lo più dal Basso Molise. C'è Alice Vitiello, 37 anni, di Larino, in vacanza assieme ad altre quattro persone. Scene orribili, raccapriccianti, ha raccontato che mai ci saremmo aspettati di vedere. Il racconto parte da un pomeriggio tranquillo di vacanza, in giro a fare shopping lungo la Rambla, musica, colori, suoni di una terra che da sempre accoglie migliaia di turisti. Eravamo seduti al bar quando abbiamo visto arrivare da una strada laterale e immettersi sulla Rambla un furgone bianco. Viaggiava ad alta velocità, ha ricordato Alice. Ha percorso circa 600 metri per poi schiantarsi contro un chiosco che ha fermato la folle corsa. Ma prima di arrestarsi, ha ricordato, ha travolto decine e decine di persone che non hanno avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di ciò che stava accadendo. A quel punto siamo scappati, ci siamo rifugiati in un albergo che era lì vicino. Siamo rimasti lì dentro per circa due ore perché la polizia non faceva uscire nessuno. Ricordo ancora le urla, il botto fortissimo e poi il suono delle sirene. Il racconto di Alice si chiude così, è sconvolta, ancora incredula per quanto è accaduto e soprattutto di essere ancora viva. Le immagini che trasmettiamo sono state girate pochi istanti dopo l'attacco terroristico da uno dei molissani presenti sul luogo della tragedia. Vi mostriamo quelle meno terribili, le altre sono impossibili da guardare. Raccontano di una strage di persone inermi, innocenti, che hanno avuto come unica colpa quella di essersi trovati lungo la strada del terrorista. Alice ripartirà da Barcellona lunedì mattina. Intanto il Consolato italiano ha attivato un numero verde 0034 934 677 306 per quanti volessero avere informazioni su parenti o amici che si trovano nella città catalana.